Una volta stabiliti gli accordi e scambiati i pezzi, comincia la ricerca degli altri pezzi mancanti, che visto che l'aeroplano pesa circa 1800 kg e che dalla Svezia ne sono arrivati 500, mancavano 1300 kg di aeroplano. Il primo a essere cercato è il motore, anzi i motori, perché non dimentichiamo che si lavorava per fare due aeroplani, quindi ci volevano almeno per buona misura quattro motori. Il primo a essere ritrovato è questo A74, trovato in provincia di Bologna in condizioni piuttosto buone. Ricordiamo che il CR42 aveva una versione dell'A74, notissimo un motore dell'epoca, particolare in quanto aveva un mozzo Hamilton, non un mozzo Piaggio e quindi cambiava il rapporto di riduzione del riduttore e cambiava lo spline del mozzo. Cambiamo. Si recuperano anche alcune parti originali, fra cui quella che vedete è una semiala inferiore sinistra con una situazione molto particolare, vedete una croce tedesca, però se guardate bene la foto vedete anche un cerchio bianco o nero, nero che poi è degradato in bianco e significa che questa ala originariamente era un'ala italiana, quindi con il solito disco bianco profilato di nero, su cui poi è stata sovraimposta la croce tedesca e anche il grigio azzurro, diciamo classicamente tedesco. Questo deriva dal fatto che probabilmente è un CR42 o una parte di CR42 poi incamerato dalla Luftwaffe dopo l'armistizio del settembre 43. Cambiamo. Ecco qui vedete la prima, spero che vediate, la prima foto fatta in officina, perché la prima cosa che si costruisce sono gli scali. Per fare un aeroplano ci vogliono degli scali, per fare un aeroplano dai disegni, perché ricordo che la Fiat allora Aeritalia ci aveva fornito quasi 1800 tavole di disegni originali di CR42 e a partire da questi abbiamo iniziato a costruire gli scali. Questo è uno dei due scali che andranno poi a costruire la struttura in tubi saldati della fusoliera, uno dei due perché la fusoliera era in realtà costruita in due semifusoliere unite più o meno alla metà della lunghezza della fusoliera, probabilmente per facilità di costruzione, probabilmente per facilità di assemblaggio o di trasporto. Cambiamo. Ecco qui vedete i diversi scali messi uno dietro l'altro anche per far vedere come è complicata la struttura in tubi di questo tipo di aeroplano. Teniamo conto che comunque era un aeroplano da caccia estremamente acrobatico con un fattore di carico a snervamento, quindi non a rottura, di 16, quindi di una robustezza incredibile e quindi la struttura è una struttura complicata e tra l'altro anche pesante. Cambiamo ancora. Ecco qui vedete liberata dalle sue strutture una delle parti anteriori, qui vedete il buco diciamo superiore per il posto di pilotaggio e soprattutto sul lato sinistra uno degli attacchi a cui poi si andranno ad ancorare i carrelli. Sulla vostra destra vedete che siccome le due costruzioni, quello dello statico e quello del volante, procedevano in parallelo, vedete l'esemplare statico che è già sulle sue zampe, quindi con i carrelli che sono già collegati a queste strutture laterali che sorreggono e reggono i carichi del carrello. Cambiamo? Ecco questa è una delle due fusoliere che è stata già unita e comincia a essere completata, ad esempio quelle specie di archetti che vedete sul lato non sono altro che i supporti in lamiera di alluminio in lega leggera, che poi supporteranno la carenatura della fusoliera per dargli quella forma tondeggiante che è tipica del un po' di tutti gli aeroplani di quest'epoca. Cambiamo? Ecco qui siamo al primo open day di area in cui la prima fusoliera, i carrelli, l'ala stelata, quella che avete visto con la croce tedesca che viene stelata e che si scopre sostanzialmente intatta e quindi viene mantenuta tale, il castello motore ricostruito, la parafiamma risistemata, e quindi l'aeroplano comincia ad assomigliare a un aeroplano. Una cosa divertente è che in quello stesso periodo in cui Area stava lavorando sui due CR42 eravamo anche impegnati nel restauro del Messerschmitt 109. Ovviamente due aeroplani che hanno progettazione, strutture, modi di costruire diametralmente opposti, complicatissimo il CR42, semplicissimo il Messerschmitt 109 e il confronto fra i due era lampante proprio perché erano uno di fianco all'altro. Se teniamo conto che il CR42 ha fatto il primo volo nel 38 e il Messerschmitt 109 ha fatto il primo volo del 36, possiamo capire come il divario fra le tecniche di progettazione e di costruzione di questo tipo di aeroplani fra l'Italia e la Germania fosse profondissimo. Cambiamo. e questo è un dettaglio. Per farvi vedere per esempio, è riuscita a vederla, quella specie di culla che vedete all'interno è la struttura del seggiolino del pilota. È una struttura che peserà 20 kg. Se avete presente come sono fatti i seggiolini dei piloti di un Texan, di un P51, anche di un P47 o di un B17 americano o di uno Spitfire eccetera, capirete che fra una struttura di questo genere che pesa 20 kg e un seggiolino di alluminio che ne pesa due, la gestione dei pesi avesse dei principi completamente diversi. Cambiamo. Vabbè, questa è fatta per ricordare come il museo della RAF di Hendon, che espone questo CR42 con una mimetizzazione tipo modellino in scala 1.72 della Revel, ci abbia comunque dato la possibilità per ben quattro volte di andare a Hendon, di smontare l'aeroplano, andare a vedere tutti i dettagli di questo aeroplano, ci hanno persino prestato una gamba del carrello per cercare di copiare gli ammortizzatori, la forcella e quant'altro e quindi il museo della RAF ci ha dato una grossissima mano per fare dei CR42 che fossero veramente coerenti con l'originale. Cambiamo pure. Questo è giusto per darvi un dettaglio di come sia assolutamente originale e assolutamente intatto questo CR42 conservato a Hendon. Guardate come è lucido dentro, guardate la struttura del serbatoio dell'olio, i tubi, i cavi elettrici, quindi tutto è come era nel 1940 quando questo aeroplano è stato abbattuto. Diciamo che è stato un colpo di fortuna, a quanto pare era stato forato uno dei tubi dell'olio e quindi il motore senza olio non funzionava un granché e quindi il pilota è stato costretto a un atterraggio di fortuna. Riparato il tubo dell'olio l'aeroplano era praticamente nuovo. Ricordiamo infatti che tutti gli aeroplani mandati sul fronte della manica, quelli del CAI, erano dei aeroplani nuovi di fabbrica, quindi con al massimo 10-15 ore di volo alle spalle, quindi erano veramente dei aeroplani nuovi. Cambiamo? Ecco, per darvi un'immagine dell'originalità, qui vedete l'interno di una delle capotterie del motore con ancora le tracce dell'olio di ricino che veniva utilizzato a quei tempi per la lubrificazione del motore. Quindi veramente una, oggi le chiamiamo capsule del tempo, time capsule, come volete, ma questo è veramente una capsula del tempo, è rimasto come era nel 1940. Cambiamo. E qui cominciamo a vedere alcune parti ricostruite, questo come potete intuire è un alettone, anche per la costruzione delle ali, non solo della fusoliera, sono stati costruiti degli scali, quindi esattamente come si fa con gli aeroplani di tutti i tempi, direi dei tempi del Raet in avanti. Questo è lo scalo costruito appositamente per realizzare l'alettone, in questo caso l'alettone dell'alettone superiore sinistra, è uno scalo, come dire, bifronte, nel senso che sullo stesso scalo si potevano poi andare a costruire anche i destri, cambiando alcuni supporti che vedete sono quelli bianchi che si vedono sulla sinistra. Avanti. Ed ecco che l'aeroplano comincia a prendere forma. Questo nella fattispecie è quello volante, però sulla destra vedete dietro che è quello statico, che la costruzione in parallelo dà il grande vantaggio che si possono vedere due tempi della costruzione diversi. Qui vedete che sono già stati inseriti i longheroncini che poi reggono la tela, davanti ci sono le lamiere di rivestimento in parte già definite, in parte in via di montaggio e nell'angolino dietro vedete che cominciano a essere parti già protette, alcuni sportelli, chi ha più spirito di osservazione, si vedono anche i contenitori dei colpi per le mitragliettrici. Cambiamo. Ecco questa è una foto dove si vedono effettivamente i due aeroplani, lo statico già con un'ala semimontata, il volante che comincia ad avere il suo castello motore e tutto il resto. Avanti. Questa è una follia, questo è un primo pezzo dello scalo per costruire i tubi di scarico. I tubi di scarico sono stati veramente una sfida, come potete intuire le forme e le curvature di questi tubi erano incredibilmente complesse e dovevano essere riprodotte in maniera perfetta. Quelli per lo statico sono stati fatti in acciaio, come era nella realtà in tempo di guerra, quelli per il volante sono stati costruiti in incone. Inconel è una lega ad alto contenuto di nickel, difficilissima da lavorare, difficilissima da saldare, però resistentissima e quindi la scelta della fighter collection per l'esemplare volante è stata di usare l'inconel in modo da non avere in futuro nessun tipo di problema per l'usura a cui sono sottoposti gli scarichi. Avanti. questa è la deriva, la deriva e il timone verticale appoggiati, in basso vedete il poppino di cui vedremo fra poco una immagine dettagliata. Andiamo avanti. Ecco qui invece una cosa interessante, questa è l'avventura delle carenature del carrello. Dalla Svezia ci era arrivata una carenatura di carrello, per l'esattezza una carenatura del carrello di sinistra. Con l'aiuto del Politecnico di Milano e con l'aiuto della Ferrari siamo riusciti a fare, scansionare, guardate che stiamo parlando fine anni 90, anzi primi anni 90, quindi qualche cosa che oggi è abbastanza comune ma a quell'epoca non era comune. È stata fatta una scansione laser di questa carenatura. Sono stati poi realizzati su una fresa a cinque assi, di cui vedete, delle forme fatte in medium density, quindi sostanzialmente in pasta di legno, che riproducessero le due metà, questa che vedete è la metà esterna del carrello sinistro, ma poi è stata fatta la metà interna del carrello sinistro e la stessa cosa per il carrello destro. Quindi erano quattro forme, su cui poi con grande pazienza doveva essere formata la lamiera e poi andata a rifinire per realizzare le carenature per i due aeroplani. E devo dire che questa collaborazione prima col Politecnico e poi con Ferrari, che ha realizzato tutto l'aspetto CAD e l'aspetto CAM, sono state fondamentali per fare delle riproduzioni assolutamente perfette. Sempre per la ricerca dei pezzi per fare degli aeroplani il più possibile identici all'originale non potevano mancare le mitragliatrici, visto che gli aeroplani da caccia sono fatti per portare i mitragliatrici. Non so se è noto a tutti che, visto che gli aeroplani italiani, i C-42 italiani dovevano andare sul fronte della manica e scontrarsi con Hurricane e Spitfire. Ricordo che gli Hurricane avevano otto mitragliatrici calibro 7,7 e gli Spitfire avevano alcuni mitragliatrici più pesanti e alcuni anche cannoni da 20. I nostri CR-42 erano armati teoricamente da due mitragliatrici da 12,7 che è il tipo che vedete in alto. In realtà la maggior parte di loro era armato di una 12,7 e di una 7,7 per risparmiare peso. Quindi noi andavamo a combattere gli Hurricane con otto mitragliatrici, usando una mitragliatrice pesante, come si definivano allora, e una mitragliatrice leggera. Purtroppo queste erano le condizioni in cui i nostri piloti dovevano andare ad affrontare gli inglesi. avanti. Ah, per la cronaca sono vere quelle mitragliatrici, demilitarizzate ma vere. Eccoci, siamo sostanzialmente alla fine, compaiono le carinature dei carrelli, compare la carinatura del motore, compare tutto eccetto la tela sulla fusoliera e nella prossima diapositiva vediamo il giorno in cui è stata fatta la prima presentazione del CR42 completo. Qui vediamo la struttura complicatissima delle ali, vediamo l'elica gialla che avevate visto nella prima diapositiva in Svezia, vediamo, la vedete una delle carinature del carrello, quella originale verniciata di verde che era il colore con cui è arrivata da noi, vedete l'aeroplano sostanzialmente completo con i montanti, con il motore installato e ovviamente rimesso a posto, quindi non funzionante, ma rimesso in condizioni museali nel giorno in cui è stato presentato. Cambiamo. Viene anche il momento della verniciatura, quindi dopo aver fatto tutta questa scena con l'aeroplano montato bisogna intelarlo, bisogna verniciarlo. Qui siamo alla fase di verniciatura, si dà la mano di fondo alla fusoliera e nella parte anteriore della capoteria del motore comincia a comparire il colore giallo che era il segno distintivo degli aeroplani italiani sul fronte dell'Egeo, perché nel frattempo con l'aeronautica militare si era deciso di realizzare, di riprodurre un aeroplano che avesse combattuto sul fronte dell'Egeo partendo da roti. Ed è quindi questo lo schema di mimetizzazione. Qui vedete il vecchio modellista che è in me, che non vedeva l'ora di poter verniciare finalmente un modello in scala 1.1, se vogliamo chiamarlo così, e anche le attrezzature di verniciatura molto primitive, d'altronde non avendo a disposizione una cabina di verniciatura bisognava arrangiarsi. Noterete anche dietro alla mia testa calva che una parte della struttura dell'ala dei CR-42 è rimasta trasparente. Questo era stato una cosa concordata con l'aeronautica militare, in quanto questa era proprio l'ala che abbiamo visto prima che era originale e quindi sopravvissuta senza particolari danni. E quindi una parte, ma solo una parte, della struttura alare è stata ricoperta in plexiglass per dar modo a chi lo volesse di andare a vedere come era realizzata la struttura dell'aereo. Si inizia la mimetizzazione, ecco una delle ali superiori con la mimetizzazione finita. Mimetizzazione classica italiana a tre colori, eseguita sulla falsariga di una famosissima foto che dovrebbe essere la prossima diapositiva, se non sbaglio. No, qui c'è ancora la fusoliera mimetizzata, andiamo avanti, compaiono i segni e le immatricolazioni di squadriglia e di numero individuale e lo stema della squadriglia che è il famoso guarda che te sbrego con il gatto nero. Successivamente è già comparsa furacemente l'immagine del cruscotto, cruscotto ricostruito con strumenti veri e devo dire con grande dettaglio, compreso, forse lo vedete sopra quella maniglia rossa, le scritte di avvertimento di non sparare col motore a un numero di giri troppo basso. Proseguiamo? Ecco, e qui arriviamo finalmente alla presentazione ufficiale dell'aeroplano a Vigna di Valle. Aeroplano finito con tutte le sue insegne, con tutte le cose, persino con, se riuscite a vederlo, sulla gamba del carrello destra ci sono tre striscettine bianche. Queste non erano altro che l'indicazione visiva del livello di gonfiaggio dell'ammortizzatore, perché in funzione del carico dell'aeroplano l'ammortizzatore si abbassava per il peso ovviamente che doveva sopportare e era stabilito visivamente che con un certo carico dovesse arrivare alla prima, alla seconda o alla terza tacca. Se non ci arrivava voleva dire che l'ammortizzatore era scarico. Qui vedete la bandiera durante questa cerimonia che protegge e che cela alla vista dei partecipanti l'aeroplano, proseguiamo, questa è un'altra vista, notate la luce che illumina la struttura dell'ala inferiore come dicevo prima, proseguiamo, ecco e qui vedete le ho messe apposta in questa maniera. La foto che vedete in basso è quella a cui noi ci siamo ispirati. Foto notissima, foto estremamente discussa perché era una foto a colori in origine, però una foto a colori all'epoca non è che la resa cromatica fosse particolarmente piacevole o particolarmente realistica e quindi soggetta con le varie correzioni cromatiche che sono possibili a livello di computer. Noi ne abbiamo dato un'interpretazione il più possibile realistica e come vedete il risultato è stato abbastanza buono. Mi piace dire che abbiamo cercato perlomeno di riprodurre anche la posizione delle singole macchie di mimetizzazione. Ovviamente non ci siamo riusciti al 100%, ma in una buona percentuale se aveste voglia di vedere e di confrontare queste due capireste che molte delle macchine di mimetizzazione sono nella stessa posizione e più o meno con la stessa foto. Proseguiamo? Chi è questo signore? Questo signore è quello che ha permesso la realizzazione di questi aeroplani. Si chiama Stephen Gray ed è il fondatore, il proprietario insieme al figlio Nick della Fighter Collection basata ad Axford. Stephen ha avuto una pazienza certosina, noi avevamo detto che l'aereo volante sarebbe stato pronto nel giro di tre anni, ce ne sono voluti dieci e lui ha avuto la pazienza di aspettarci. L'unica cosa che lui diceva sempre è ragazzi io sto invecchiando e non vorrei essere portato sotto bordo al CR42 con una sedia a rotelle. Vediamo altri protagonisti che si meritano. Ecco questa qui e chi sono questi signori? Quello di destra è Stephen Gray. Gli altri tre che vedete sono quello di fianco a Stephen Gray, si chiama Per Erikson ed è un appassionato svedese che ha collaborato moltissimo nella fase iniziale per il recupero e poi lo scambio con l'aeronautica italiana dei famosi 500 kg di CR42. Gli altri due sono due suoi amici di cui in questo momento mi sfugge il nome, ma comunque quello era il team svedese che era andato poi a vedere il CR42 ad Axford. Qui siamo ad Axford. Andiamo oltre. E questo invece è il team dei restauratori, quindi diamo onore al merito, le persone che hanno reso possibile sostanzialmente la ricostruzione di questi due CR42. Quindi sono le persone di area, da sinistra vedete Vittorio Suigo, poi ci sono io, poi c'è Bonomi, poi c'è Imperiali e Colletto e Accosciati, come si dice, Vittorio Zidioli e il nostro Stefano che è il saldatore, quello che ha saldato tutta la struttura dei due aeroplani. Proseguiamo. Finita o no? Vediamo la prossima diapositiva. Questo è il CR42 volante, quando l'abbiamo consegnato nel 2005 alla Fighter Collection. Per una serie di ragioni che adesso non voglio tediarvi, l'aeroplano è stato fermo per quasi dieci anni, in quanto ci sono stati dei problemi di certificazione, ci sono stati dei problemi in generale della Fighter Collection con l'ente certificatore inglese, e quindi l'aeroplano è stato per così dire messo in naftalina per un sacco di tempo. Fino a, andiamo alla prossima, fino a Flying Legends, quindi lo show principe di Duxford di due anni fa, in cui il CR42 è stato verniciato ed è stato esposto in forma statica, ma comunque intero, e devo dire che io ero presente, è stata un po' la star di questo show, perché indubbiamente vedere un aereo italiano vero, volabile, non volante, ma volabile, in un aeroporto inglese, è stata veramente una chicca. Speriamo, speriamo, sì, infatti dicevo fine forse, speriamo che non sia la fine, nel senso che in occasione del centenario dell'aeronautica militare nel 2023, quell'aeroplano possa volare nei ceri italiani, quindi partecipare alle manifestazioni che l'aeronautica militare ha intenzione di svolgere per il centenario del 2023. C'è ancora una diapositiva? No, non c'è un'ultima diapositiva. No, si vede che la versione che ti ho mandato, Delia, non ha un'ultima diapositiva, che però vi racconto. Se qualcuno avesse la voglia e la pazienza di voler approfondire la storia di questo aeroplano, la storia del restauro, eccetera, a suo tempo, nel 1995, è stato edito dal gruppo Amici Velivoli Storici un numero speciale della rivista Ali Antiche, per l'esattezza il numero 73, che, guardate, se mi vedete in faccia, lo vedete qui, dedicato al restauro del CR42. Penso che, anzi, sono sicuro che al Gas Lombardia ce ne siano ancora alcune copie disponibili, quindi, se qualcuno avesse desiderio di approfondire con queste, diciamo, 30 pagine di articoli che raccontano tutta la storia del restauro e tutta la storia dell'avventurosa rinascita di questi due aeroplani, questo direi che è il modo migliore per averlo. Se qualcuno fosse interessato può scrivere al Gas Lombardia oppure anche al sottoscritto e poi vedremo quante copie ci sono e come farle avere. Vi ringrazio per l'attenzione e sono qui per rispondere alle vostre domande. Certo, come di consueto chiediamo ai nostri ascoltatori di porre per iscritto le domande a cui il nostro ingegnere Maurizio Longoni si appresterà a rispondere. Nel frattempo cominciamo a ringraziarlo per la presentazione della ricostruzione dell'ultimo dei biplani. Pensate, abbiamo assistito alla storia della ricostruzione dell'ultimo, bellissimo, ma biplano. Un aereo, come ci ha detto lui, che è volato due anni dopo lo Spitfire e il Mash Smith ed è stato l'ultimo dei biplani, ma bellissimo, perché non si può dire che non era bello. Chiediamo alla nostra Odelia se ha qualche domanda già in arrivo. Sì, c'è già una domanda. Prego. Allora, avete montato il motore e la capottatura storta, inclinati in basso a destra come da progetto? Assolutamente sì, anche sullo statico. Scommetto che questa domanda l'ha fatto Giulio Valdoni. No, ebbene no, l'ha fatta il signor Somma, però mi pare che non so se conosci. Non so se adesso l'ingegnere Valdoni stia preparando qualche altra domanda, probabilmente sì. vediamo se arrivano altre domande. Beh, dirò subito che una scoperta l'ho fatta intanto che Maurizio raccontava la storia. Non lo sapevo dalla storia delle due mitragliatrici dei due calendri. Ho sempre pensato che avessero due 12.7. Oggi ho scoperto che per guadagnare peso spendevamo tanto per il seggiolino, ma per l'armamento cercavamo di risparmiare il più possibile. Eravamo proprio dei bravi, insomma dei calitti. Eravamo bravissimi. Tenete conto che il CER42 era veramente l'incontro di due filosofie costruttive completamente antitetiche. Vi ricordo per esempio che la struttura delle ali era sostanzialmente una struttura come se fosse stata progettata per una costruzione in legno. L'unica cosa è che invece di avere longheroni in legno e centine in traliccio di legno, aveva longheroni costruiti, quindi non diciamo così dei rettangolori di metallo, quindi non estrusi, ma costruiti proprio pezzo per pezzo, solette, anime, rinforzi e quant'altro. E poi aveva le centine che invece di essere fatte con dei listellini di legno, erano fatte con tubi quadrati di lega 20-24, dello spessore di 0,5 mm e di dimensioni di 8 mm per 8 per l'ala superiore, 8 mm per 6 per l'ala inferiore, piegati, formati e tenuti insieme da fazzolettini, come si chiamano normalmente quelli che congiungono i listelli di legno, fazzolettini di alluminio naturalmente, che venivano chiodati a questi esili tubettini quadrati attraverso rivetti cavi. E' un modo per costruire, ma è anche un modo per risparmiare peso. Tenete conto che complessivamente sulle due ali ci sono all'incirca 7-8 mila rivetti cavi che abbiamo dovuto far costruire appositamente, così come abbiamo dovuto appositamente far realizzare in Texas i famosi tubetti quadri o rettangolari, che dir si voglia, perché in Europa non si riusciva a farli fare. E i ribattini cavi sono stati costruiti chiedendo a una fonderia di Bolzano di realizzare il filo, le matasse di filo di 20-24 del diametro adeguato e a una piccola, mi viene a dire una fabbrichetta, sì, è vero, era una fabbrichetta, in Brianza, a partire da questo filo di 20-24 di realizzare i ribattini cavi, che poi venivano con un procedimento stranissimo ribaditi per tenere insieme queste strutture. Quindi una cosa assolutamente folle. Quello che magari non tutti hanno messo a fuoco è che invece i piani di coda del CR-42 erano una normalissima struttura a guscio. Quindi non è che le conoscenze non ci fossero, però per qualche ragione la coda era fatta con una normalissima struttura a guscio e le ali erano fatte così. Bene, allora, in merito al processo di certificazione per il volo. Sono coinvolti gli enti certificatori inglese e italiano? In caso affermativo, quale dei due si è dimostrato più burocratico? Fortunatamente nessuno dei due, nel senso che essendo un aeroplano costruito, è vero, in Italia, ma soggetto alle regole di certificazione, alla sorveglianza di certificazione inglese, è stato seguito dall'ente certificatore inglese e non dall'allora RAI. Ci sono state delle difficoltà, però devo dire che sono state delle difficoltà molto di nicchia, perché ovviamente tutta la costruzione è stata fatta seguendo delle regole molto chiare e molto precise predisposte dall'ente certificatore inglese e quindi, avendole seguite, direi in maniera praticamente perfetta, pedissequa, le correzioni che sono state richieste successivamente sono state veramente poche e di estremo dettaglio. Quindi, per esempio, su tutte le parti strutturali primarie è andato tutto bene, non c'è stato niente da dire e niente da fare. Sono stati chiesti alcuni chiarimenti su alcuni materiali, alcuni chiarimenti su alcune lavorazioni, però nulla di particolarmente significativo. Ok, allora, è vero che il sole e l'umidità rovinavano l'aereo? Beh, un po' come tutti gli aeroplani, voglio dire, star fuori al sole, all'umidità, eccetera, anche gli aeroplani meglio costruiti non fanno una bella fine. Se teniamo conto che comunque questo aeroplano, per una buona parte della sua superficie esterna, era realizzato in tela, perché tutte le ali sono rivestite in tela, i piani di coda sono rivestiti in tela per le parti mobili, la fusoliera nella parte posteriore ai fianchi rivestiti in tela, anche questa è una delle cose poco comprensibili, possiamo capire come, indubbiamente, ad esempio immaginate rodi con delle giornate caldissime, delle notti fredde e umide, visto che si era abbastanza vicini al mare, e potete facilmente immaginare come queste condizioni non favoriscero la perfetta conservazione degli aeroplani. Perfetto, allora, qual è stato l'elemento del velivolo più complicato da costruire o da ricostruire? Eh, questa è una bella domanda. Diciamo che da un punto di vista della della costruzione, quindi della realizzazione di un singolo componente, sono stati i nodi di giunzione dei tubi della fusoliera. Allora, normalmente noi siamo abituati a pensare che una fusoliera in tubi d'acciaio saldati sia una una struttura tutta intera dove i tubi vengono presi, accostati e poi con un procedimento di saldatura uniti fra di loro. Non è così sul CR-42, nel senso che i singoli tubi non erano uniti fra di loro, ma venivano saldati a dei nodi realizzati di macchina, quindi partendo dal classico blocchetto e poi andando a realizzare come una specie immaginate una specie di stella realizzata di fresa e di tornio, però un pezzo unico che andasse a come dire imboccare i singoli tubi che arrivavano in questa posizione. quindi tenete conto che in alcune posizioni tipicamente dove si congiungevano le due metà della fusoliera c'erano questi nodi dove arrivavano sette tubi diversi con dei diametri diversi con degli spessori diversi e il tutto aveva delle dimensioni ben definite naturalmente e poi su questo andava fatta la saldatura. Per chi conosce un pochino di problemi di saldatura la saldatura che cosa fa? Scalda scalda il tubo che è d'acciaio ma scalda anche il nodo che è di alluminio questo significa due reazioni diverse e soprattutto se non si sta molto attenti un trattamento termico dell'alluminio indesiderato quindi le precauzioni che si sono dovute prendere per arrivare a fare le saldature correttamente in questi nodi sono state non ve le descrivo perché sono state delle follie anche perché una volta fatte le saldature dei tubi sul nodo di alluminio non si riusciva più a come dire a fare dei trattamenti termici perché altrimenti bisognava fare trattamento termico sull'intera struttura di fusoliera quindi qui ci sono state poi dei trucchi fra virgolette del mestiere che hanno consentito di venirne fuori elegantemente scusate ho detto una sciocchezza ho detto una sciocchezza i nodi ovviamente non erano di alluminio erano d'acciaio però tutto il resto è valido l'ingegner Valdonio ha chiesto la parola e ingegnere le abbiamo attivato il microfono per cui prego puoi intervenire grazie bravissimo Maurizio è stato veramente interessante purtroppo è arrivato il postino che mi ha tolto una parte dell'ascolto vabbè non risentirò ti mando la presentazione volevo dire due cose la prima questa complessità di costruzione pazzesca naturalmente si traduceva in un costo dell'aeroplano pauroso Gianni Cattana il nostro compianto amico mi disse una volta di aver trovato un'offerta della Fiat che parlava di 43.000 ore per fare l'aeroplano certamente ci avevano messo sulla cresta però 43.000 ore vuol dire il quadruplo di uno Spitfire esatto e quindi era veramente oltre che essere un aeroplano concettualmente antiquato era anche antiquato il concetto produttivo in un modo inammissibile volevo anche aggiungere un altro episodio divertente molti di voi avranno sentito parlare del pilota Eric Brown detto Winkle che è un pilota della marina inglese che è l'uomo che ha volato forse sui più aeroplani del mondo ha scritto degli interessantissimi libri in cui li commentava tutti e volò anche su CR42 catturato e rimesso in ordine di volo ed è interessante perché commenta da pilota collaudatore l'aeroplano che dice che era uno dei più belli aeroplani acrobatici su cui abbia mai volato ma che non vedeva assolutamente come potesse essere impiegato bellicamente quindi non è stata certamente una grande impresa averli mandati in Inghilterra bene complimenti ancora Maurizio grazie commento solo quest'ultima cosa di Eric Brown che condivido da non pilota ma da tecnico che condivido assolutamente ricordo all'amico Giulio che la Royal Air Force poco prima della guerra veniva definita il più grande bel aeroclub del mondo quando volavano ancora anche loro sui biplani quindi dicono ti chiedono ancora ma secondo lei quindi come mai questa complicazione rispetto al 109 so che il CR42 era agilissimo e gli inglesi non riuscivano a inquadrarlo sul collimatore va tutto relativo diciamo che il fatto che nella famosa e direi quasi unica incursione sul Ramsgate in cui in una giornata sono stati tirati sotto tre CR42 e in cambio gli inglesi non hanno avuto nessuna perdita ma neanche un mitragliamento la dice abbastanza lunga lì dipende da come venivano utilizzati da come venivano svolte le missioni indubbiamente la manovrabilità in un dogfight quindi in un combattimento manovrato era essenziale e indubbiamente un biplano con un basso carico alare con proprio una progettazione anche aerodinamica fatta per essere agile indubbiamente è più agile ad esempio di uno Spitfire o di un Harry Kane soprattutto che erano progettati non tanto per essere manovrabili quanto per essere veloci quindi sono due modi di utilizzare l'aeroplano in in maniera diversa finché si trattava di andare su Malta nei primi giorni dove gli scontri erano fra CR42 e Gladiator potevamo anche parlarne quando parliamo di scontri fatti sul fronte della manica dove i nostri CR42 o anche i G50 e guardate che non era poi molto diversa la questione andavano a combattere contro soprattutto gli Harry Kane ma anche qualche Spitfire indubbiamente le tattiche di combattimento venivano stravolte gli aeroplani inglesi tendevano a valorizzare la loro il loro attu la loro capacità ovvero la velocità anche in parte la manovrabilità ma soprattutto la velocità e CR42 potendo contare soltanto sulla manovrabilità e non sulla velocità dovevano subire lo sconto e questo purtroppo si è ripetuto per tutta la guerra e ha portato anche purtroppo a tanti risultati nefasti sì l'aeroplano era come diceva anche Eric Brown come diceva anche Giulio Valdonio nel suo intervento era un aeroplano estremamente manovrabile ma la stessa cosa era per altri aeroplani io ricordo di aver letto un libro non mi ricordo se era uno dei tanti di Eric Brown o di qualcun altro un libro che mi piacerebbe ritrovare è un libro inglese e si intitolava what would they like to fly quindi come volavano questi aeroplani e c'era questo pilota collaudatore non ricordo se fosse Brown o qualcun altro che aveva volato su tutta una serie di aeroplani catturati e commentava il Mach-200 un Mach-200 catturato dagli inglesi in Africa e provato e anche lui diceva che era l'aeroplano più piacevole del mondo da volare perché era manovrabile rispondeva perfettamente ai comandi era ragionevolmente veloce accelerava molto bene era stabile impicchiata quindi aveva tutte le caratteristiche di questo mondo però pur essendo comunque un aeroplano monoplano con un motore da il solito 840 cavalli a piena potenza con delle buone caratteristiche acrobatiche eccetera eccetera sappiamo che poi il confronto con l'Ari che poteva sostenerlo il confronto con lo Spitfire era questione di manico a questo punto non era tanto questione di aeroplano quindi non si può dire in maniera assoluta che uno era più era migliore dell'altro perché era più manovrabile eccetera dipende da come veniva usato e dipende da come si sviluppava lo scontro nel momento in cui immaginate un CR-42 che sta facendo una scorta bombardieri su Malta che viene attaccato dall'alto contro sole da degli Spitfire non c'è partita ma non ci sarebbe partita per nessuno perché lo scontro non si sviluppa sul piano della manovrabilità ma si sviluppa sul piano della velocità e in questo caso quanto a velocità il CR-42 non aveva non poteva competere si possono fare delle previsioni sul possibile primo volo del CR-42 volante per il 2023 o prima sarà possibile secondo te? dunque se vogliamo avere qualche speranza che un CR-42 voli nei cieli italiani il 28 marzo 2023 vuol dire che l'aeroplano deve volare alla metà del 2022 all'incirca in modo da avere tempo per fare tutti i voli officina per far familiarizzare i piloti eccetera eccetera questo significa che abbiamo poco più di un anno da questa data diciamo se vogliamo essere ottimisti un anno e mezzo la vedo dura la vedo dura ci sono ancora degli elementi ostativi anche se lentamente Mario Restauro continua ad andare avanti ve lo posso testimoniare ci sono ancora dei punti critici che sono la mancanza di un'elica volabile e la mancanza di ammortizzatori gli ammortizzatori sono ancora di là da venire non è una cosa insormontabile quella degli ammortizzatori va a diciamo così a scontrarsi contro contro fra virgolette contro Stephen Gray Stephen Gray vuole che il suo CR42 sia perfetto ed esattamente identico a quello prodotto dalla Fiat e quindi tutto deve essere fatto ma tutto immaginate qualsiasi pezzo idraulico una pompa della benzina un regolatore di giri deve essere quello originale e quindi questo porta ad andare a cercare ovunque i pezzi originali cosa che ormai è praticamente impossibile quindi direi che forse la cosa più più importante è trovare un'elica volabile perché quella che è montata sul CR42 italiano è quella che viene dalla Francia quella che è montata sul CR42 inglese è un'elica che recuperata in Italia ma non volabile quindi può al limite essere usata per fare delle messe in moto per fare dei rollaggi eccetera ma non può andare per e qui effettivamente il problema diventa significativo quindi come mai questa complicazione dell'aeroplano del CR42 rispetto al 109 beh due filosofie di progetto e di costruzione completamente diverse è quello che diceva Ingegno Valdonio pochi minuti fa l'aeroplano è nato vecchio è nato complicato da costruire quindi non pensando al fatto di dover rendere più veloce e più efficiente la costruzione in serie ma pensando probabilmente di più a come mantenere un livello adeguato chiamiamolo così di lavoro per i vari reparti della Fiat di quell'epoca non è giustificabile fare un aeroplano nel 38 con una struttura ancora di tubi così come non è giustificabile il fatto che il CR42 sia stato prodotto fino all'inizio del 44 non ha assolutamente senso se non per le ragioni che dicevo un minuto fa mi pare che non ci siano altre domande niente non essendosi altre domande al nostro ingegnere Longoni Morizio e a tutti quelli che ci hanno seguito non possiamo che fare i nostri ringraziamente per averci seguiti dandogli appuntamento la prossima settimana a martedì e a venerdì con un programma che la nostra signora Deglia Durione adesso ci leggerà ovvero certo martedì 30 martedì prossimo avremo ancora il professor Ferrari che ci parlerà della la trasolata delle alti di Geo Chavez mentre giovedì primo aprile prossima settimana faremo la conferenza giovedì non venerdì perché venerdì è venerdì santo quindi abbiamo anticipato a giovedì e avremo il dottor Fabrizio Bovi che ci parlerà dell'impatto del covid-19 sull'industria del trasporto aereo quindi queste le nostre conferenze di prossima settimana ringrazio ancora a tutti e a tutti buongiorno buonasera grazie a voi ingegner Longoni grazie all'ingegner grazie arrivederci grazie a voi tutti appuntamento prossima settimana ancora grazie a tutti arrivederci